E alla fine anche quest'anno Brescia l'ha spuntata dopo un lungo tira e molla con la regione che sembrava decisa a tenere chiusi i cordoni della borsa e la loggia che reclamava risorse per il trasporto pubblico. Il Pirellone ha trovato 5 milioni di euro nelle pieghe del proprio bilancio da destinare alla metropolitana di Brescia per il 2020. Risorse più contenute se paragonate ai 6 milioni e mezzo di contributi ottenuti per quest'anno e ai 9 del 2018, ma comunque importanti per scongiurare tagli al trasporto locale, in particolare alle corse degli autobus cittadini. Biglietti e abbonamenti infatti coprono solo il 35% degli effettivi costi di gestione. La quota restante viene assicurata dal Fondo Nazionale Trasporti, anche se la metropolitana attende dal 2013 di essere inserita nell'elenco delle infrastrutture da finanziare. Nel frattempo la regione ci mette una pezza erogando ogni anno contributi d'emergenza, una tantum. Grazie alle sollecitazioni bipartisan dei consiglieri e degli assessori bresciani, il Pirellone quest'anno ha trovato 5 milioni in più, ma l'auspicio è che ora anche Roma faccia la sua parte. La Lombardia infatti già eroga 400 milioni per i trasporti pubblici e non intende ricorrere ogni anno a misure straordinarie di emergenza. Per la metropolitana cittadina, sostengono da Milano, è necessario definire una cifra adeguata e rendere strutturale il sostegno economico.